Ciao a tutti raga, benvenuti nel mio canale. Oggi ho deciso di portare un nuovo contenuto, spero che piaccia, vediamo come va. Io ogni tanto registrerò qualche partita con questo gioco Rocket League. Io mi diverto molto a giocare anche se non sono particolarmente brava. Chissà se mai lo diventerò, ci provo. Dato che questo gioco lo porto in live, solitamente lo gioco al sabato con i miei sub, ma anche con gli iscritti, con chi vuole farsi qualche partitina al piacere di giocare con me. Lo gioco in modo così, insomma, amichevole, arcade, partite in cui ci si diverte, poi come vanno vanno. Però ho deciso, dato che ci gioco ormai da qualche tempo, di provare a farci una serie, però buttandomi nel mondo della competizione di questo gioco. Quindi facendo partite competitive. Io sono per ora a bronzo, perché non è che ho giocato molto le competitive, ma ci provo. Comincio con una 3 vs 3 standard. Vediamo, trovo una partita. Al momento sto nella categoria bronzo. Chissà se riesco a salire. Io ci provo, ci metto l'impegno che posso. E comunque mi diverto. Questa è la mia macchinina. È quella che preferisco di più, per il momento. Con la skin che si chiama serpente, qualcosa del genere. Il cappellino sportivo. E anche l'antennina colorata, così che mi piace. Vediamo se trova qualche partita. Sta cercando la partita. Speriamo che trova. Eccoci pronti, pronti. Ha trovato una partita. Vediamo come va. Aspettiamo che arrivano tutti, che sono tutti pronti per giocare. Eccoci qua. Utenti random, quasi tutti da Playstation. Direi tutti. Tranne me, tutti da Playstation. Io gioco con la ballcam attiva. Perché diversamente non so giocare. Semmai mi dicono tutti che ho la macchina un po' troppo vicina. C'è la telecamera. Dovrei tenerla un po' più lontana. Mi sa che ci hanno ragione. Aia. Abbiamo subito il primo gol. 0-1 per gli avversari. Faccio parte della squadra blu. Beh, vedremo di rimediare. Sto un po' in difesa. Io solitamente gioco qui, eh. Sono più difensiva. Che attaccante. Però ci provo. Stava quasi segnando il mio compagno. No, ma che tiro. Ah, 0-2. Non va mica bene. E questi mi sa che sono un po' bravini. Diciamo che sono più abituata a giocare partite normale. Ho il turbo che non lo sopporto più. L'ho preso con l'evento estivo lì. Dei palloncini. Aspetta. Poi non c'è arrivato manco lui. Ok. Questa tattica ha funzionato. Se qualcuno va a segnare mi fa un favore. Adesso è questo. Oh. E' ancora lì. E' ancora lì la palla. Ok. Ah, io di più non potevo fare. Vediamo se ci arrivo o non ci arrivo. Oh, io ci ho provato a mettere la palla lì. Lì davanti. Ah, siamo in due tra l'altro. Un compagno ci ha abbandonati. Mi spiace che quando giochiamo in competitiva succede questo. Che la gente purtroppo lascia la partita. Chi lascia la partita non viene sostituito e questo ci dà uno svantaggio. Non è giusto. Non è affatto giusto questa cosa. Ah, non l'ho presa. Eh, vabbè, adesso fanno un altro gol. Eh, per forza. Eh, questa la perdiamo malamente. A meno che non abbandona pure il mio compagno e ci arrendiamo. Forse segno, forse segno. Ale. 4 a 1. C'è un gol a moviola, eh. Ci sono arrivata poi per miracolo perché il compagno... Non è riuscito a prenderla. O forse non voleva rubarmi il gol, non lo so. Poteva tranquillamente spingere la pala. Andava bene lo stesso. Siamo sotto di tre gol. E siamo in due. Oh, mamma mia, l'ho salvata. Volevo prendere il turbo, ma... No! Dai! Non la mixare proprio lì. C'è la mixata. Il mio compagno che... Non la prende! Dai! Madonna! Non ci credo. Eh, purtroppo un compagno... Cioè, io so di non essere bravissima, eh. Ci provo. Combino guai anch'io delle volte in questo gioco. Per chi mi segue in live... Sì, insomma, può vedere che... Ne combino di tutti i colori in questo gioco. Dai, spingila di là, non di qua. Sto facendo solo parate. Beh, ci ha provato adesso il compagno. Ah, dovevi saltare. Se avevamo il terzo compagno che ci manca, lì magari ci scappava il gol. No, ho sbagliato. L'ho messata io. Bene. È stato bravo stavolta. L'hanno fatto esplodere. Eh, non ce la faccio così. Sono un po' sola soletta. Bravo. No, ho sbagliato. Ho sbagliato anche tasto, proprio. Eh, vabbè. È impossibile vincere o recuperare questa partita. Allora, vuota per abbandonare. Come si fa? Io premo, ma... Vorrei dire di abbandonare, ok. Sono rimasta da sola. Vuota per abbandonare. Eh, sono rimasta da sola. Anche il compagno si è arreso. E non è andata bene questa. Non è andata bene. Dobbiamo lasciarla vinta gli avversari. Pazienza. Vediamo la prossima. Allora, trovo una nuova partita. Beh, non si può pretendere di vincerle tutte. Né tanto meno di vincere così subito. Ci vuole anche un po' di fortuna a trovare magari dei compagni bravini. E magari anche più onesti che anche se si perde, si va sotto di uno o due gol, non si arrendono subito e mollano la partita. Perché questo diventa poi un problema. Speriamo adesso che ne trovo un'altra. Vediamo. Eccoci, altra partita. Vediamo come va anche questa. Speriamo di impegnarci un po' di più. Siamo tutti pronti. Team noob. Team avversari. Due giocano in team. Ops. Sono nella squadra blu. Nooo. Questo non mi piace. È difficilissima da prendere per me. Era dura. Beh, questa è buona, questa è buona. Dai, che è ancora lì la palla. Bravo. Uno a uno. Yes. Abbiamo già pareggiato. Mi sono buttata lì nella mischia sperando appunto di fare dare un pallo alla palla. Ci sono riuscita. L'ho toccata anch'io così che si è alzata ma è rimasta lì. Ahia, questo non va bene. Ho spinto il mio compagno. Sorry. Vai, 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 vai. Nooo. Nooo. Pensavo che la prendeva l'avversario. Ho saltato per nulla. che me l'ha lasciata. No, l'ho mancata. Eh, dai. Cosa fanno? Nooo. Dai, dai. Ok. Bravo. Mangia. Gol. Dai, non potevano ne entrare. Due a uno. Bella macchina. Bravo, Nono. Siamo in vantaggio. Cerchiamo di mantenerlo, sto vantaggio. Nono turbo. Oh. Vai. Ah. È stata parata, dai. Ah beh, vincitore a tavolino. Beh, non mi dispiace. Prima ho dovuto abbandonare e far vincere gli avversari a tavolino. Adesso abbiamo vinto noi a tavolino. Sono punti per me. Trova una nuova partita. Anche se ho fatto pochi punti, 12. La partita è finita prima del tempo, a disposizione. Ha trovato una nuova partita, speriamo di avere avversari più gestibili. Vediamo, abbiamo Luca Zero, Bacon e Bill in squadra. Stavolta sono nella squadra arancione. Qualcuno! Ok. Eh, grazie. No. Oi, oi, oi. Prendete quella palla. Eh, qua mi spingono da tutti i lati. Eh, basta! Non sono mica io la palla. Allora. No! No, che fate? I compagni si incastrano tra di loro. Non ci credo. L'hanno mancata tutte e due. Si sono scontrati tra l'altro dopo. 0-1 per gli avversari. Però dai, forse questa partita non è persa ancora. No! Ma questo tizio cosa fa? Bravo! Così va meglio, così va meglio. Perchè, 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 perchè. Vai! Yes! 1-1! Ho segnato, ho segnato! Come ha fatto a non prenderla? Non so. Eh, non so neanche io come ho fatto a dargli quell'effetto lì al tiro. Vai! Oh, parata! Andiamo, andiamo! No! Non sono andata avanti. Ho spostato l'avversario. Parola, bravo! No, non ho turbo, non ho turbo. Ok, allontaniamo sta palla, anche se non ho proprio turbo. Un pochino adesso. No, pensavo di prenderla. Forse era meglio se rimanevo ferma in porta, peccato. Vabbè, ci ho provato. Ci ho proprio provato. Ma che fanno tutte e due? No, eeeh! E quel tizio è pericoloso, vuole stare in difesa, poi fa dei danni assurdi. No, non è riuscito. Fanno, cioè, degli errori, ho sbagliato anch'io lì. Però loro hanno fatto degli errori assurdi. Non riescono a prendere la palla bene da allontanarla. Che peccato. Eh, dai! Oh! Peccato. E che fai? Che sta a fa' sto tizio? Eh, io la manco, che è una meraviglia! Madonna! Ecco, sì, si perde tempo in giro. Ecco, quello l'ha mancata. Dai! 3 a 2, autogol, credo. Credo che ci sia stato un bel autogol. Ah, no, no, il mio compagno l'ha preso. C'è stato il passaggio dell'avversario al mio compagno. Cosa fai? No? Cavolo! Oh, grande parata! Ok, deviata in qualche modo. Io l'ho alzata, non potevo fare altrimenti. Dai, che è un gol dobbiamo fare per pareggiare. No, l'ha tenuta su! Devo andare. Qualcuno. Vai! Meno male, 3 a 3. Meno male che ci sono arrivata. E l'ho alzata. Ho creato un momento di confusione lì davanti. Bravo. No, l'ho mancata. No, turbo. Madonna, senta meno male. Spingiamo via, spingiamo via. Questa palla. Questa palla. No! Il mio compagno! Credo sia... Gli abbia fatto dare un pallo. non l'ha presa. Non l'ha presa. No, non l'ha presa. Eh, peccato. Ho perso all'ultimo secondo. Eh, qui c'è un altro gol. No. Peccato, è stata una bella partita, però. Una bella partita. Gigi, eh sì. Cerchiamone un'altra. Vediamo come va. Due gol, due parate, due tiri. Ho cercato di impegnarmi un po' di più. Eccoci pronti per un'altra partita. Sono pronta, sono pronta. No. Uh, bravissimo, bravissimo. Anche se... Ci hanno segnato lo stesso. Ma nessuno è andato sulla palla. Fa lo stesso. Abbiamo subito il gol. Sì, a pochissimi secondi dall'inizio. Perché nessuno è andato sulla palla. Io ero lì in difesa. Ci sono rimasta. Oh. Se riesco... Qualcuno al centro. No. Bravo. Ah, volevo spingere la palla verso il centro. Non è là. Comunque... No. Ma dov'è l'altro? No. Se ne sta in difesa. E saltiamo tutti. E la tengo lì. Vediamo se... No. Il compagno è andato troppo su. Ok, ok, ok. Ah. Come si fa a dire alla palla che deve andare dall'altro lato. Oh, si è stata pure spinta. Vai. No, l'hanno mancata. Che peccato. Dai, non la puoi mancare. Grande. Uno a uno. Questa mi è piaciuta. Che giocata che abbiamo fatto. Bel gol. Ah, e la presa d'altro. Aspetta, vado indietro. Aspetta, mi ha spinto il compagno. Bravo. Annaggia, l'ho presa male. Salta. Dai che entra. Due a uno. Beh, ho fatto... Ho dato un po' di fastidio lì in mezzo, dai. Ho spinto anch'io gli avversari. Ci siamo un po' scontrati ma... Ce l'abbiamo fatta. Oh, non devo finire io in porta. Ma la palla... No, ok, 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 è andata, è andata. Manu male c'era il compagno. No, non l'ho presa. Ah, ho mancato di brutto. Vado. Qualcuno, qualcuno. Tornate indietro. Ah, erano tutti lì. Bravo. Eh, cacchio. Eh, dove va? Dove va? Ah, è riuscita a entrare. Eh, non avevo turbo. Non potevo farci nulla. Tiro fortunato, eh. Bello. E anche fortunato. Due a due. Pariggio. Gol. Yes. Con un altro assist. Tre a due. Ehi. Ero indecisa. Salto, non salto. Ho fatto un saltino. Cavolo. Questa per lì. Blocco le palle io. Ah. Me ne ho dato fastidio. Ah. No, 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 no. Sono finita in porta. Mannaggia. Sono andata troppo avanti. L'avrei potuta prendere. Non lo so, sono andata di velocità. Vabbè, tre a tre. Ehi. Avrei potuta parare. Oh, cacchio. Ma come si fa? tempi supplementari. Eh, vabbè. L'abbiamo perso. Gli hanno lasciato la palla. L'hanno lasciato tirare. Battuta malissimo. Eh, pazienza. Io lì. Non avevo molto da fare. Pazienza. Peccato. Un'altra partita persa che poteva essere vinta. Succede anche questo. Ero che te rocchette. A rocchette competitivo. Non si molla mai. Però non è stata una brutta brutta partita. Dai. Vabbè, io mi fermo qua, raga. Perché più di mezz'ora, alla fine, ho giocato mezz'oretta, quello che è. Eh, non so se vi piace ogni tanto vedermi così giocare a rocket. Ogni tanto magari mi registro, porto qualche video. Eh, vediamo come va. Eh, vi ricordo di guardare in descrizione il link. Perché trovate il link del mio canale Viola, dove streamo tutti i giorni da lunedì al sabato. Il link di Stan Gaming, dove comprare questo gioco scontato. Eh, che usate, se usate il mio link, comprando questo gioco, mi aiutate un pochettino perché mi arriva qualcosina. Eh, poi il link per entrare nel mio gruppo Telegram, la sala giochi di Nora, e il link del mio shop, dove trovate magliette, cuscini, eh, qualche cover per il telefono simpatica che ho fatto. Poi magari più avanti qualcosa arriverà per lo shop, vedremo. Mi raccomando, ragazzi, spolliciate, passate parola e alla prossima. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!